Un'altra domanda. Vorrei ascoltare una spiegazione della Svarupa. Cos'è la forma dell'anima? Si può conoscere già da questa vita la forma della propria anima? Allora, in questa domanda vuole ascoltare alcune esplicazioni della Svarupa. Cosa è la Svarupa? In nostra vita possiamo sapere la Svarupa? I'm also trying to learn. I have no much qualification about that. Anch'io sto ancora imparando, non c'ho le qualifiche per poter fare una spiegazione. But this is my search now. Però adesso è la mia ricerca. I'm honest with you. This should be search of you also. e Maharaja dice io sarò onesto con voi. Dovrebbe essere anche la vostra ricerca. Perché come faccio a sviluppare una relazione con questa mia forma? Perché come faccio a sviluppare una relazione con questa mia forma? I want to relate with her. I need my form to relate. se voglio relazionare con lei mi ci vuole una forma devo avere la forma. La lampadina non può relazionare con l'altra lampadina perché quella non è una forma. Giusto? Uno è la lucia. La lampadina ce l'ha la forma. La luce. La luce con l'altra luce. Eh scusate Oranzas. No, I've got it. What i say you republish. Then it should meaning will not come. I try. Yes. Sometimes I do some mistakes. No, if you do then my talking is useful. You have to see what I am telling you. You cannot add and minus something there. This world cannot make relation with this world. Because one is Paramatma, one is Atma. Because one is the soul and the other is the super-animal. This is the Mayavadi philosophy without form. And if you have one form, this bulb has a form and this has no form. It is also Mayavadi philosophy. And if you say that the lamp has a form and the other has no form, this is also the philosophy of Mayavadi. Yes, check yourself. It is not possible to relate. If you cannot relate, you try different ways. You try different ways. The father needs a form and the daughter needs a form to understand that she is the daughter and she is a father. I love Jesus. He makes straight this one. Lui ha parlato in maniera diretta. Questo è il punto. Son means form. Figlio significa forma. Father means form. Padre è un'altra forma. Se lei dice padre, parla di una forma. Si capisce? Questa divina connessione e relazione è necessaria. Come trovare? Come trovare? Cercala. È una cosa importante della tua vita. Si? Si. 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 E' possibile ricevere la misericordia del Signore senza impegnarci in un lavoro di miglioramento di noi stessi? Is it possible to receive the mercy of the Lord without being engaged in a work of improving, of evolving? Is it possible? I don't understand. What work? Which type of work? To improve ourselves. What is improving? To become better. How to become better? I have to make one example in my friend. I want to become like this. So this example, Krishna I like to become like you. But I see, when I see you, and when I see Radhika, then I want to decide to become like Radha's servant. Because then I will always think for you. Because she is thinking for you. Why? Because she always meditate on you. Because she constantly meditate on you. In sleeping, eating, walking, working, every moment she does nothing more than you. You have to think many things. For all devotees and other worldly affairs. So I see more better places in her lotus field. That I cannot go out from your thinking. If you fix this example and work, it's very good. And if you want to follow, how I can follow her, that preparation I have to do in my life to become servant of Swamini Rabbah. She is sweet, she is humble, she is crying. I have to change my behavior to become sweet, humble, crying, tolerant. No fighting, no envy. What she has in nature I have to double up inside. This to do. She goes this way, I want to go this way. I'm not following. Dice, se lei va da una parte io vado dall'altra. Questo non è seguire. I have to go this way. Se lei va di là, io vado di là. Questo vuol dire seguire. Right? Giusto? That's to decide. Quindi uno deve decidere.